Ciao a tutti i più cortini, io sono Alessia, benvenuti oppure bentornati sul nostro canale Ciao, ciao Dopo una vita che non pubblichiamo video, eccoci su un vlog nach Costanz Andiamo a Costanza Con i nostri amici Quindi ci seguirete durante la giornata e vi presenterò il nostro nuovo gruppo di amici Se vedete che sono così rossa in faccia è perché in Sicilia è preso tanto sole Ed è sclerata Comunque siamo appena tornati dalla vacanza e stiamo andando a Costanza a completare il fine settimana Comunque, ci vediamo dopo Ciao E siamo arrivati con Jessica Una recuperata Che stiamo proseguendo alla stazione per recuperare gli altri dieci Ok abbiamo recuperato l'altro membro bancante del gruppo, adesso siamo quattro Quando la moda è un optional in Germania Comunque siamo noi quattro qua sul treno Io mi ascolto la musica Comunque adesso parte un'ora e mezza perché abbiamo un'ora e mezza di tempo Un'ora e mezza di fare musica lì Vabbè ci vedo dopo che mi arrivano gli altri Com'è bello fa l'amore da me Comunque siamo tutti arrivati Siamo in giro per Costanza Non abbiamo idea di dove andare Volare Volare ailra Del bING Felice di stare quassù Lalla facciano bellè facciano toccare Quella sembra che grida comunque ci sono girati un paio di negozi ma non abbiamo trovato niente E siamo comprati questi occhiali Oh la la Dove cazzo sei scelto? Oh la la Faccelo vede Faccelo toccare tutti i singilari Comunque Ho comprato questi occhiali e sto andando a cercare gli altri Io sono pazza picciotti pazza Viva la follia di Sibilla Viva la follia di Sibilla Ora ti faccio una t-shirt Minchia vedete che la metti su Youtube Bello, batti le mani, schiacchia le dita Forza Sibilla per tutta la vita Ciao Picciotti Batti le mani, schiacchia Sibilla Dove sta? Che confusione Sarà perché ti amo È un'emozione Che cresce piano piano Stringimi forte E stammi più vicino Se ci sto bene Sarà perché ti amo E vola vola si sa Sempre più in alto si va E vola Allora ragazzi non abbiamo trovato un cazzo Un cazzo un cazzo Non abbiamo trovato niente Stiamo sul ponti Stiamo andando dal lago Per andare a trovare un Adidas store Video Ma siamo al lago Che bellissimo Ma ci avviciniamo al lago Ve lo faccio vedere meglio Si adesso andiamo A passeggiare sul molo e vi faccio vedere meglio L'acqua qua fa schifo C'è una papera Qui c'è un cane quella che rida Sono le papere Ma è il senso che non ti so Ma è l'amore ci facciamo Un girunga panale Non lo so se ci fanno far giro Comunque Tutte le entrate per il molo sono chiuse Quindi vi faccio vedere da qua Quello che c'è Enorme comunque Questo lago Cioè non è qui Questo è solo il porto Cioè è gigantissimo Non è che ci spiagge Non lo so ma qua tutte le entrate sono chiuse Per guardare L'acqua è cristallina Figo Ah no Arriva No Oddio Pubblicavo un video Mentre ti stai la sogni un calore Pizzo No No Me lo dico in tedesco Me lo dico in tedesco Dobbiamo andare subito a sto cazzo Di cazzo Ma faccio tu Oh maronni Donno Del cazzo questo Madonna Mi Ti devo cincere Buono tu Tutti da lo so perché stasciamci E lei ciao Dica le giornate Sto battendo Sì di 4 5 5 6 5 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 6 6 6 6 7 8 8 8 9 9 9 10 10 10 10 11 10 11 12 12 12 13 14 15 14 14 15 16 16 16 Sì, 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 sì mi fanno male i piedi e stiamo cercando il mcdonald però non si trova i ragazzi sono dietro di me un altro gruppo è avanti ma il mcdonald non c'è aspetta ferma faccio entrare a tutti oddio mettete un ai a caso spostatevi mi mettiamo avanti aspetta c'è scritto dove vanno oh sto cadendo stiamo cadendo si 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 ma che schifo perchè un coglione di merda per dire a cale censura lo sai che ha fatto allora lui cosa ha fatto lo state qui stai tu allora allora non ti spiego cos'era eh vai siamo così siamo un gruppo di ti sposo ti faccio e poi lui è mio fratello ma dove è il mcdonald ci vediamo col mio motore sì alla fine abbiamo trovato il mcdonald quella si è vestita di calcio sì lui è vestita di calcio lui è vestita di calcio lui è vestita di calcio e siamo tutti il tavolo qua sì ma se tu lo possiamo eh vabbè ciao allora allora la giornata è finita stiamo tornando dalla sezione ma l'è finita ma che è iniziato cioè qua è finita però stiamo tornando stiamo tornando dalla sezione per andare a triper il nostro paese quindi ciao va bene è bella la c'è il disclaimer è bello è bello è bello